Grazie a tutti. E' il ciucco, l'albicocca. Albicocca. È rigorosamente l'albicocca? Eh sì. No, non lo compro. Eccoci arrivati a casa. Ho già messo la spesa qui sul tavolo e ora vi mostro per bene nel dettaglio che cosa abbiamo acquistato. Allora, iniziamo dalla pizza ristorante, eccola qua, quella della cameo e abbiamo preso una ai funghi per il piston brillo e una bianca con prosciutto cotto e patate. Eccole qua. Queste sono molto, molto, molto buone perché sono sottilissime e non ti rimangono proprio sullo stomaco. Si digeriscono bene. Poi abbiamo preso i filetti di platezza, questi sono già conditi alla mugnaia, questi direi che si mettono in forno o anche in padella addirittura. Sì, in padella, ah no, in forno ti dice di no. Ah, anche solo in padella, ancora meglio. Sì, 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 sì. Bene. Poi, un sacchettino di funghi a fette, funghi champignon a fette e questo è un sacchetto da 450 grammi. Poi, lo yogurt, allora, questo è un yogurt nuovo, novità, bianco seta con cuore di agrumi e mango. Chissà la bontà, lo mangerei già adesso, ma ormai è ora di cena e è meglio di no. Allora, magari dopo cena, le banane, ovviamente, poi un probiotico bianco, questo da bere al mattino, per la colazione, insomma. I sofficini, allora, abbiamo preso questi ai funghi con mozzarella, ovviamente, e prosciutto cotto e mozzarella. Poi, c'era in offerta la pasta barilla, quella integrale, e ho fatto un po' di scorta perché ormai nella mia dispensa l'avevo finita. Allora, ho preso due pacchi di penne rigate, un pacco, una confezione, insomma, di mezze penne rigate e poi, ovviamente, integrali. E poi, hai cinque cereali, un nuovo formato, le mezze maniche rigate, e quelle qua, e le penne, e queste noi le prendiamo sempre. Cinque cereali, grano, farro, orzo, mais e segale. Eccoci, poi, andiamo avanti, da questa parte, con altri yogurt, allora, il mix cremoso, quindi c'è yogurt bianco con fiocchi di cioccolato, buono. E poi, una novità, anzi, due novità per noi, ovviamente, non so, per voi. Allora, mix soffio, mousse di bianco con granella di pistacchio, e questo gusto bacio. Quindi c'è lo yogurt al sapore di nocciola, con i fiocchetti, insomma, io li chiamo i crocchini al cioccolato. E uno dei preferiti del piston brillo è questo, yogurt bianco con le fragole e la sua cremina. Poi, pomodori, quelli a grappolo, questo l'ho fatto io, no, non l'ho fatto io, però va bene lo stesso. Allora, poi, le salviettine fria, mille usi, sono 12 salviette, hanno l'igienizzante e sono rinfrescanti, sono veramente buone, se le trovate, prendetele perché sono ottime. Poi, il DAV, perché si è scurito tutto? Ah, mi ero avvicinata troppo. Ok, il DAV, l'original, secondo me, nella linea DAV è il più buono, e poi dura anche di più, eh, a livello di profumazione, dura proprio tutta la giornata. Un meloncino, quello liscio, noi lo preferiamo perché è più digeribile. Poi, un po' di scorta di caffè per la nostra macchinetta, noi abbiamo la macchinetta Bialetti, e questo è il gusto Roma, ben chiamato così, che è un gusto forte, intenso. Ok, io poi ormai il sapore del caffè non mi ricordo più. Adesso il caffè lo beve solo il pistombrillo, io non lo bevo praticamente più. Poi, bellutata con la zucca. Ah, ma io mi sono sbagliata. Nooo. Io pensavo fossero i cubetti di zucca, invece la bellutata. Beh, vabbè, è buona lo stesso. Ma pensa, che testa. Ero convinta fossero i cubetti. Preparazione alimentare surgelata a base di zucca e carote. Vabbè, è lo stesso, va mangiata comunque. Poi, il succo, ovviamente, all'albicocca. Abbiamo preso due bottiglie che erano in offerta. Poi, l'anticalcare, mangiacalcare. Eccolo qua, due flaconcini. La tinta, ahimè. Castano scuro. Questa mi piace molto, questa della linea Garnier, Movida, perché fa poca puzza di tinta. L'unica cosa di cui non sono d'accordo è questo. Durata da 6 a 8 settimane. No, non è vero. A questo assolutamente no. Dura molto meno. Anche perché, essendo una tinta senza ammoniaca, non devono scrivere queste bugie, però. E poi, per finire, una confezione di rotelle di liquirizia, quelle originali Aribo. Anzi, no. Poi, una confezione del mio amato tè verde, sempre della linea Cote. Per un totale di 62 euro e 61 centesimi. E basta. Si è già fatta una certa ora. Io adesso accendo il forno e metto dentro le pizze. Questa sera, pizza. E io, come sempre, vi ringrazio per l'attenzione. Ciao, ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.